Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un'applicazione web-based sui cambiamenti climatici. Scrivete nella casella di ricerca di Google This climate does not exist e andate a questo indirizzo, cliccateci sopra e siete introdotti nell'applicazione. Se volete la traduzione in italiano cliccate con il destro e cliccate su traducci in italiano. In questa esperienza che vi mostro e che sfrutta l'intelligenza artificiale si possono immaginare in realtà aumentata i cambiamenti ambientali che potrebbero accadere nei luoghi, anche quelli vicini a noi, come conseguenza della crisi climatica. Nell'introduzione, questa, vedete che viene descritto che cosa percepiamo nella crisi climatica, ossia ondate di caldo, inondazioni, eccetera, eccetera. Che cosa si fa? Si clicca su cominciare e abbiamo una introduzione anche qui, una finestra sulla crisi globale da leggere naturalmente. Dice scegli una posizione, noi andremo a scegliere questa posizione in sua Google Street View e ti dà anche alcune idee per guidare l'esplorazione. Se ti interessa esplorare che cosa accadrebbe vicino alla tua casa, alla casa della tua infanzia, al tuo posto di lavoro, a una destinazione a viaggio preferita, a un ristorante scelto. Io digito qui un indirizzo, piazza ad esempio, De Gasperi, poi completamento me lo dà lui, Mantua, facciamo 27, Mantua. Vedete che mi dà l'indirizzo, piazza Cd De Gasperi, 27, Mantua, MN, Italia. Vado e questa è la zona, quindi, di una delle mie abitazioni, faccio lancio alla visualizzazione. Qui possiamo vedere in questo indirizzo che vengono fornite delle informazioni rispetto alle alluvioni, agli incendi, al wildfire e allo smog. Naturalmente sono informazioni molto generali su alluvioni, incendi e smog, che sono i macroeffetti dei cambiamenti climatici. Andiamo ad esempio su alluvioni e c'è tutta la spiegazione di che cosa si intende per alluvioni e quale sia il bilancio umano di questa catastrofe. Poi possiamo, naturalmente, tornare indietro. Abbiamo la visualizzazione anche degli incendi, quindi ti dice che cosa si intende per wildfire, per incendi e anche qui l'impatto umano. Che cosa succede? Poi possiamo, naturalmente, andare a vedere la questione dello smog. Clicco su smog e anche qui ho alcune informazioni che riguardano che cosa si intende per smog e i rischi per la salute umana. Sì, sono informazioni generali, però questo può essere un modo per introdurre attraverso un'esperienza a stimolo una discussione e argomento didattico sul clima. Buonasera. 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 Buonasera.